Bene amici, oggi vi porto a bordo di una delle barche più belle, secondo la mia opinione, qui al Nautic Sud, parliamo del Gagliotta Lobster 35, guardatelo qui, questa è la sua presentazione qui in fiera e adesso ci andiamo a fare una bella passeggiata a bordo, io ringrazio il cantiere per avermi dato l'accesso e guardate qui un'altra particolarità che la carena non ha pattini ed è perfettamente liscia e sarei molto curioso di testare in acqua per vedere come si comporta. E adesso andiamo a vederci la scheda tecnica, saliamo su questa grande palancetta, vedete com'è ampia, larga, che tramite due gradini poi arriviamo nel pozzetto con la dinette di poppa. Dunque, scheda tecnica l'abbiamo qui, vediamo che ha una lunghezza fuori tutto di 11,50 m, al galleggiamento sono 9,89 m, quindi di fatto è una tante, larghezza massima 3,28 m e abbiamo una motorizzazione con due Volvo, in questo caso sull'etichetta ci sono due da 2,60 m, ma in realtà sono due da 2,70 m, che danno una velocità di punta di 31 nodi e una velocità di crociera di 26 m, ma vi dicevano che è comunque una crociera molto confortevole a 22 nodi. Quindi, comunque è una barca per godere al massimo il mare. Abbiamo quindi la risalita con questa maniglia che ci aiuta a salire a bordo e qui abbiamo il pozzetto, vedete? Abbiamo un grande divano unico AC, componibile in più porzioni, perché questa zona qui si solleva per dare l'accesso alla sala macchina, ma dopo ci faremo un focus proprio per vedere come è disposta la sala macchina in cabina. Al centro del pozzetto c'è il tavolino che può essere sollevabile e quindi possiamo scegliere o di avere un tavolo molto ampio e grande per poter pranzare con tante persone a bordo, guardate quanto è grande lo spazio e quindi quante persone possono trovare posto. Di fatto, se contiamo una per ogni cuscino, ci sono circa otto posti per sedere, sette posti. Dicevamo, il tavolino può essere quindi sia tavolo sollevabile con pistone idraulico, sia un prendisole che però non avendo dei ganci di supporto in questo modello è consigliato per persone più leggere per evitare problemi strutturali. Alla nostra sinistra abbiamo un tavolino a scomparsa, vedete, che ha una linea di supporto proprio per dare un piano d'appoggio. Perché piano d'appoggio qui? Perché noi su quest'altro mobiletto abbiamo all'interno nascosta la cucina esterna con piano cottura induzione e lavello, quindi noi immaginiamo stiamo cucinando e abbiamo qui accanto a noi il piano per poter poggiare gli oggetti. Sarebbe un po' carino mettere un bordino proprio per evitare di far cadere gli oggetti durante la navigazione, mettere un piccolo bordino di dislivello proprio per bloccare il rotolamento degli oggetti. In basso abbiamo qui il primo dei due frigoriferi, un frigo che si apre con la porta tradizionale, qui abbiamo un vano di stivaggio per stivare gli oggetti e qui abbiamo gli staccabatterie. Bene, ci spostiamo un po' più avanti, altro divanetto qui sulla sinistra e arriviamo nella zona della console. La zona della console che è fatta con un sedile biposto, una seduta biposto con porzione inferiore reclinabile e qui c'è, vedete, l'avvallamento per renderlo poggiareni. Perché? Perché noi andiamo a puntare i piedi in basso, poggiamo appunto sul poggiareni e andiamo al timone. Vedete, la visibilità è buona, non abbiamo grandi difficoltà, ma mi dicevano che lo step di altezza è regolabile in base all'altezza dell'armatura. In questo caso a guidarla c'è una persona di circa 1,85 m, quindi di fatto dobbiamo vedere questa visibilità qui, perché io sono 1,70 m, ho questa visuale e di fatto quindi riusciamo a regolarci senza nessun problema. Al centro abbiamo la bussola visibile, riusciamo ad avere il monitoraggio senza difficoltà, display Garmin multifunzione e anche questo qui c'è il GPS per avere il controllo delle funzionalità di bordo degli strumenti. Strumentazione Volvo Penta dedicata col motore e timone classico in legno riverniciato, vedete, molto molto elegante. E strumenti on-off a scomparsa, quindi a filo di fatto e andiamo, vedete, con l'accensione, quindi non c'è il classico on-off a scatto su e giù. Qui ci sono due gavoni che sono comunicanti, quindi andiamo ad aprirli. Andiamo a vedere, vedete, c'è una zona comunicante per avere più zone di ispezione e anche per stivare gli oggetti. Andiamo in cabina, in cabina c'è, il cantiere l'ha definita una spider di fatto, cioè è ideale per due persone. Qui ne abbiamo dei gradini, tutto rivestito in legno, molto elegante in classico stile cagliotta, qui ci è ben abituato il cantiere partenopeo. Abbiamo sulla sinistra questo divanetto e a prua una zona in cui abbiamo due opzioni. Il primis è questa zona qui, vedete il triangolo è assente perché c'è questa porzione di legno che possiamo andare a installare. La mettiamo così, col cuscino, e abbiamo quindi un letto matrimoniale per due persone, forma triangolare classica. E a me piacciono molto gli oblò tradizionali, quindi non ci sono vetrate ma sono oblò molto grandi per favorire la reazione. Ormai, lo sapete, io sono fan degli oblò che ci consente un passaggio d'aria più ampio, quindi ci sono quattro oblò qui e più il passo d'uomo che vediamo qui. C'è un armario sulla destra e poi abbiamo il bagno, quindi di fatto una cabina molto grande e un bagno separato. Anche qui, calcolando che siamo su un 35 piedi, è molto molto spazioso il bagno, vicino il lavello e doccia che scompare qui. Quindi qui abbiamo la doccia e a terra c'è il piano. La porta si chiude in senso opposto a quello a cui siamo abituati perché in questo modo non ci possono essere infiltrazioni d'acqua quando si fa la doccia. Ed è una bella soluzione questa qui, oltre all'oblo, vedete quanto è grande comunque, quindi a reazione al massimo. Usciamo fuori e andiamo verso prua. Andiamo verso prua. E questo è una cosa che non mi fa impazzire del cantiere perché abbiamo qui il tentibene sicuramente, vedete, qui c'è un tentibene in acciaio che ci dà una presa salda. Ma per salire dobbiamo fare un movimento in questo modo e qui la porzione del passo avanti è piuttosto stretta. Quindi dobbiamo andare a appoggiare il piede per bene, dobbiamo essere sicuri di incastrarlo o metterlo sulla falchetta e poi salire avanti. Appena facciamo qualche passo c'è quest'altro tentibene col quale poi ci aiuta a reggere e andiamo avanti. Battagliola alta, mi piace tantissimo la battagliola alta anche se non sempre è prevista perché questa è una conforme ad un allestimento scelto dall'armatore perché di per sé il cantiere mi diceva che potrebbe stonare con l'aspetto classico elegante e quindi loro scelgono anche delle volte di non installarla. Vericello a vista, molto pratico, comodo. Da qui abbiamo il vano di controllo perché abbiamo il contacatena, vedete, e il controllo salpa ancora su e giù. Poi bitte molto belle, molto eleganti a livello della coperta e prendisole tradizionale con passo duomo che non è coperto quindi è visibile. Dimenticavo sul tetto, sull'art hop, di fatto possiamo chiamarlo art hop, è un lobster, c'è la vetrata a scorrimento quindi per favorire l'ariazione e quindi favorire il maggior passaggio di aria anche qui in navigazione. Ritorniamo a poppa, vedete, passeggiando abbiamo il piede che si va a restringere e quindi andiamo ad avere qualche problemino o meglio, è questione di abitudine e quindi di fatto dobbiamo essere abituati a fare così. Rimuoviamo un attimo i cuscini e andiamo a vedere solo la sala macchina prima di concludere il nostro tour a bordo. Andiamo ad alzarlo col pistone idraulico, col comando qui vicino alla console e andiamo, può aprirsi ancora di più anche manualmente, quindi in caso di emergenza possiamo aprirlo. E vediamo la sala macchina, guardate, ricordiamoci che siamo su un 35 piedi, vedo di creare un po' più di luminosità, ecco qui, quindi sala macchina molto spaziosa, riusciamo a fare tutte le operazioni di rimessaggio anche abbastanza agevolmente, soprattutto sul motore di sinistra vedete lì quanto spazio c'è. E c'è un po' solo di difficoltà tra un motore e l'altro, quindi per fare operazioni qui bisogna stendersi sull'altro motore, però queste comunque, ricordiamo, dicevo siamo su un 35 piedi, quindi di fatto non possiamo affatto lamentarci. Quindi, cari amici, per ora noi abbiamo concluso il tour a bordo, in molti mi avete chiesto questo Gaiotta, siamo riusciti a salire, spero che vi sia piaciuto, quindi aspetto una vostra opinione, ditemi cosa ne pensate. Per tutte le altre informazioni vi lascio i riferimenti del cantiere, io ringrazio ancora il cantiere Gaiotta per avermi fatto salire a bordo. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo e taggate le persone che pensate possano essere interessate. Grazie mille e ci vediamo alle prossime video sempre sul mio canale.